Battaglia vinta quella di alcuni commercianti e dei residenti della parte del centro storico dove per il 2 gennaio era prevista l'interruzione di energia elettrica per lavori per diverso tempo. In un primo momento l'Enel aveva accolto la richiesta di ridurre le ore di interruzione e stamattina il sindaco Gian Guido Alberto invece ha annunciato che viste le previsioni del tempo avverse i lavori verranno rinviati. Esatto, proprio pochi minuti fa prima delle 11 il sindaco ha confermato questa cosa sui social e ci fa molto piacere perché le persone che hanno problemi di disabilità erano ovviamente costrette a far funzionare altri meccanismi, altre cose magari con i generatori insomma. Anche perché le previsioni dicono che farà freddo ed è probabile anche la neve magari non al livello di Teramo però vicino Teramo sì. Sì esatto, non a livello catastrofico ma comunque la neve da giovedì a domenica appare e quindi è un grosso problema. Quindi ringraziamo sicuramente il sindaco Gian Guido Alberto che si è impegnato, si è attivato subito ma anche voi degli organi di stampa che avete amplificato la voce, in questo caso la mia voce per poter risolvere questo grosso secondo me problema. I residenti lamentavano il fatto che in caso di maltempo non era possibile accendere i termosifoni e dunque era un disagio decisamente importante soprattutto per le persone malate e per gli anziani. Voi commercianti chiedevate di rinviare i lavori perché il 2 è ancora un giorno inserito nelle festività natalizie e in quell'orario lì la fascia mattutina si lavora anche parecchio. Si lavora anche parecchio perché ci sono le ultime spese, insomma gli ultimi acquisti che si fanno. Anche in vista dell'epifania. Esatto, in vista dell'epifania ma comunque anche chi vuole prendere un caffè al bar sicuramente non avrebbe trovato un locale caldo perché ovviamente non ci sarebbe stata la corrente e non avrebbe potuto prendere il caffè chiaramente.